Vi raccomando, ricordatevi, adesso che inizia la campagna dei 7.30 col mese tra marzo e aprile e più avanti con la compilazione del modello unico, di ricordarvi di portare al vostro commercialista o al CAF preposto alla compilazione il codice fiscale dell'AMSES e di barrare per l'organizzazione appunto di volontariato. Quindi ricordatevi ogni anno che AMSES è nei vostri cuori.